buongiorno a tutti da sempre mi sono speso per combattere la sofferenza e l'ho fatto anche recentemente con l'avvento di questa sciagurata pandemia come molti sanno perciò se il mio intervento al senato ha generato sofferenza di questo io chiedo sinceramente scusa perché proprio non era nelle mie intenzioni così come nelle mie intenzioni non era di offendere chi da dal covid è stato colpito del resto come sapete la mia famiglia non è stata risparmiata dal virus siamo stati tutti quanti contagiati e tutti quanti abbiamo temuto il peggio perché nessuno può conoscere l'andamento di una di una malattia come questa che è sconosciuta ancora oggi sconosciuta lo scopo del mio intervento al senato era quello di sperare in un prossimo futuro in cui si possa in cui bambini soprattutto possano ritrovare la normalità possono sperare di vivere da bambini giocando tra loro abbracciandosi come devono fare i bambini per poter crescere sani e sereni questo solo era il senso del mio intervento e tutti quelli che hanno a causa del modo in cui mi sono espresso probabilmente anzi sicuramente non il più felice tutti coloro che dalle mie parole hanno trovato ragioni per sentirsi offesi o hanno sofferto per quello che ho detto a loro chiedo sinceramente scusa perché le mie intenzioni erano tutt'altre erano esattamente il contrario buona giornata